ma lo sai che ti dico non lo butto via per nulla questo punto io non lo butto via per nulla questo punto siamo sempre lassù va bene una leggera flessione atletica è tutto sotto controllo stai calmo stai calmo questo è un campaccio dove ci rimangono male in diversi ma di cosa stai ragionando provato l'inter a fare un giro palla a muoversi negli spazi cioè ha provato a far perdere le distanze a genoa cioè ragazzi non è facile questi vanno a mille corrono sanno comunque giocare la palla cioè capito non ci hanno concesso tanti spazi di giocata sulle seconde palle questi sono stati bravi bisogna riconoscerlo primo tempo loro molto molto bene secondo tempo sono spariti hanno fatto nulla alla fine della fiera secondo tempo abbiamo sofferto i calci piazzati però ragazzi questa era una partita per come la vedo io dove davanti dovevi lasciare due punte e più sanchez il problema è che noi abbiamo due punte per tre competizioni siamo sempre lì dove vuoi andare con i cinese siamo sempre lì questi mettono messias malinowski e retegui te a malapena puoi mettere sanchez queste sono quelle partite da lasciare le due punte da mettere uno dietro ma non lo puoi fare non hai varianti tattiche davanti siamo contati ad arnatovic non può chiedere di giocare come un ventenne cioè il gioco di arnatovic può essere solo quello quindi di cosa stiamo ragionando questo è un punto che non va assolutamente distrattato perché è un punto importante in un campo molto ma molto difficile in una squadra che tra l'altro cioè ragazzi genoa ha una condizione atletica strepitosa questi corrono fino al novantesimo hanno gli occhi rossi di cosa ragioni non facciamo drammi siamo lassù qui domani c'è giù per roma calma 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 questa letta onda calma dove vuoi andare ogni cinese c'è stato punto in avanti ciao inter comandate